Un inizio di campionato da brividi per il Pescara. Prima giornata Pescara-Foggia e sarà subito spettacolo l'Adriatico-Cornacchia in una gara che ha risvolti a marcord fortissimi per l'allenatore del Delfino Zdenek Zeman e per il DS Peppino Pavone. Proprio loro due hanno scritto con Zemanlandia le pagine più belle del calcio foggiano e la gara contro i Satanelli non sarà come tutte le altre. Come ha confermato la visibile emozione dello stesso Pavone presente in rappresentanza del Pescara nel Castello Svevo di Bari la location prescelta per la presentazione dei calendari. Partita nella quale cercherà di consumare una piccola vendetta sportiva anche il tecnico foggiano Giovanni Stroppa già allenatore del Pescara nella penultima Serie A dimessosi dopo circa tre mesi di campionato sommerso dalle critiche. Pescara-Foggia è anche una gara da antica rivalità sugli spalti. Si diceva di inizio da brividi perché poi il Pescara sarà in trasferta a Perugia contro una squadra reduce da una semifinale playoff quindi all'Adriatico Cornacchia arriverà il Frosinone, una delle principali rivali del Pescara per il salto di categoria. Il Delfino sfiderà gli allenatori abruzzesi alla nona giornata, D'Aversa in Parma-Pescara, alla undicesima Vivarini in Empoli-Pescara, alla quattordicesima Grosso in Bari-Pescara e alla diciottesima Camplone in Cesena-Pescara. Circoletto Rosso per il 4 novembre, tredicesima giornata, Pescara-Palermo, ritorno alla Barbera il 7 aprile. Venerdì 25 agosto la opening night con un anticipo da definire, chiusura della regular season il 18 maggio. Si giocherà anche nel pieno delle feste natalizie, la vigilia di Natale il 24 dicembre a Scoli-Pescara e a San Silvestro 31 dicembre a Pescara-Venezia. In questi due casi non ci saranno gare serali. Poi la sosta del campionato dal primo al 19 gennaio, previsti sei turni infrasettimanali, cinque di martedì, 19 settembre Pescara-Entella, 24 ottobre Empoli-Pescara, 27 febbraio Pescara-Carpi, 17 aprile Provercelli-Pescara e primo maggio Pescara-Cesena, più il turno prepasquale di giovedì 29 marzo Brescia-Pescara.